Amici di Gcase buongiorno ancora una volta in diretta e in anteprima per voi da una casa che non avete ancora visto è in anteprima esclusiva per voi qui sui nostri canali social in questo caso su youtube qualcuno di voi mezz'oretta fa avrà visto anche la diretta facebook e ora siamo qua su youtube vi invito sempre ad iscrivervi a mettervi a metterci un like per farci capire se riusciamo a farvi entrare all'interno delle nostre case oggi vi faccio vedere un trilocale un vero trilocale un trilocale bomba stupendo spettacolare a bani di ardesio a mille metri di altitudine quindi alla quota che voi tantissimo amate a 70.000 euro un trilocale con due camere vere regolarmente accatastate quindi nessuna difformità la casa ideale davvero per sei persone quindi guardatela con me adesso metto un attimo in pausa esco e entriamo insieme in quello che è un appartamento davvero spettacolare non cercatelo sui portali non cercate sul nostro sito è qui in anteprima solo per voi anzi ringrazio chi settimana scorsa si è subito accaparrato l'appartamento in anteprima esclusiva a rovetta oggi siamo qui a bani di ardesio venite con me eccoci qua come state vedendo proprio qui sopra ma neanche a 50 metri sopra qui c'è la quota neve oggi una giornata davvero tra l'autunno e l'inverno siamo ormai vicino alla nevicata qui a bani di ardesio come vedete dove c'è il mio dito lì in questo momento sta nevicando allora qui siamo al primo piano quindi c'è soltanto questa rampa di scale poi alla fine scenderemo insieme e guarderemo con precisione anche la palazzina e qua abbiamo il portoncino blindato d'ingresso poi vedrete tanti dettagli in questa casa meravigliosa un pochino di pietra vista un po' di legno sulle pareti ma guardate dove sono guardate la zona giorno quanto è bella vi ricordo che tra l'altro con i 70 mila euro oltre al box che è un box piccolino è che viene utilizzato più come cantinetta ma oltre al box vedete i mobili che ci sono in questo momento vengono lasciati dalla proprietà escluso qualche oggetto personale che chiaramente come vedete è molto ricca questa casa guardate il camino il camino in pietra voglio farvi vedere qualche dettaglio particolare di questo bellissimo camino in pietra e anche dei mobili guardate questo tavolino queste poltroncine questo divanetto e tutta questa mensola questa mensola in legno spettacolare guardate con questi germani reali che sono qui poggiati sulla mensola io mi sto girando per farvi vedere un pochino i dettagli di quello che è davvero un appartamento molto molto bello guardate ancora un'altra angolazione e la porta finestra e la finestra innanzitutto c'è un cucinino magari prima di uscire sul primo balcone vi faccio vedere il cucinino finestrato guardate la finestra tac eccola lì una cucina nuovissima piccolina piccolina davvero piccolina ma c'è tutto fuochi ad induzione forno nuovissimo frigorifero piccolo ma veramente molto molto nuovo e tutto quello che serve davvero avere un cucinino particolare guardate invece dalla finestra si guarda verso sud in questo momento c'è veramente nuvoloso nevischia dovete pensare che qua siamo comunque a mille metri e siamo esposti verso dove guardo in questo momento proprio a sud il sole nasce da là dagli spiazzi di gromo che in questo momento sono già innevati vi ricordo che ormai le piste stanno per aprire siamo a dicembre e guardate di là il monte secco che è seminascosto da queste nuvole e dove sta certamente nevicando in questo momento la palazzina come vedete anche in pietra esterna questo è un balcone completamente coperto guardate e molto bene esposto tenuto davvero bene qua si può tranquillamente mangiare fuori guardate che che bella vista nonostante la giornata certamente uggiosa rientriamo nell'appartamento andiamo a vedere tantissimi dettagli oggi voglio proprio farvi vedere qualcosa di bello non ancora in pubblicità in realtà vogliamo che voi la compriate subito anche se dal nostro punto di vista ci piacerebbe poterla anche pubblicizzare perché da questo appartamento si possono cogliere tantissimi dettagli meravigliosi guardate sono ora nel disimpegno ogni angolo ogni porta ogni ogni situazione ha qualcosa di particolare in questa casa adesso sto entrando in quella che è la camera matrimoniale ditemi se non è super affascinante anche con questi travi a vista sul soffitto questo letto in ferro battuto bellissimo guardate i comodini guardate i dettagli dell'angioletto qua ma guardate se mi giro mamma mia che bello si vede davvero l'impronta di chi ha amato un appartamento davvero bello davvero bello e qui da da qui si accede anche all'altro balconcino che è praticamente identico a quello che vi ho fatto vedere nella zona giorno che guarda sempre verso sud quindi sole davvero tutto il giorno chiaramente tranne oggi solo in questo momento è proprio dietro queste nuvole anzi il fatto di vederlo così così limpido così chiaro questo punto è proprio perché dietro queste nuvole si vede che si sta diradando un po' la giornata lì c'è il sole da oggi pomeriggio danno assolutamente bel tempo rientriamo nella camera da letto guardate che che spettacolo questo armadio nulla da dire facciamo vedere anche questa angolazione e anche la larghezza importante e tutti questi dettagli fatti certamente con amore dalla persona che ha vissuto questo splendido appartamento questo splendido appartamento che come vi dicevo ha due camere da letto infatti stiamo entrando nella seconda camera un'altra che nelle nostre case sarebbe un'altra camera matrimoniale perché come vedete ha due letti separati con la finestra che guarda verso l'ingresso per intenderci e notate lo spazio ampio che si ha si ha in questa in questa stanza potrebbe essere messo tranquillamente un armadio anche da questa parte adesso vi faccio vedere qual è l'armadio di questa stanza ma guardate bene i dettagli sempre le travi a vista inserite successivamente e il pilastrino, gli angolini, le luci davvero davvero buon gusto davvero un ottimo gusto e questa casa può essere vostra a 70.000 euro guardate anche il bagno certamente un bagno datato ma ristrutturato in maniera perfetta guardate il mobile del lavandino e la rubinetteria particolarissima che torna poi nel bidet e nel water e come vedete questo bagno ha ancora una vasca può essere utilizzato così come lo vedete o questo qua è il citofono il dettaglio della camera quindi potete usarla così o mettere magari una doccia al posto della vasca rendendo certamente più grande e più comodo un bagno che di per sé è già davvero molto molto grande vi faccio vedere ancora qualche dettaglio del soggiorno e ora andiamo giù a farvi vedere la palazzina dall'esterno questo è il soggiorno ah vi dicevo per la camera da letto quella piccolina per intenderci questa che non ha un armadio al suo interno come vedete all'ingresso c'è un armadione questo è un armadione a tutti gli effetti come vedete che può essere utilizzato per quella camera da letto ora venite con me e vi mostro la posizione esatta e la palazzina ed eccoci qua per farvi vedere la palazzina bellissima la chiamo palazzina per modo di dire il box il secondo box quello che vi indico col dito è quello di proprietà e quella è la scala si fa solo questa rampa di scala e qua siamo nella zona giorno cucinino bagno bagno eccolo camera da letto mentre l'altra camera da letto ha la finestra sul retro guardate che bella la posizione Edoardo ha appena chiuso la finestra guardate anche quei tronchi lì che fanno da fioriera quindi posto davvero molto interessante guardate che bello ed eccoci ancora in una posizione per farvi meglio comprendere quello è il monte secco completamente innevato guardate che bello ve lo zoom un po' per farvi vedere la neve che ormai sta prendendo possesso delle nostre montagne finalmente ha sfocato un pochino quindi torniamo nella normalità ed eccoci qua questa è Bani di Ardesio e molti di voi la conoscono e questo è il condominio AITES dove abbiamo il nostro appartamento come vedete cancellino citofono cancello carrale ed ecco qua l'ingresso che porta all'appartamento in anteprima esclusiva ecco qua ribadisco i contatti 0346 23933 per chiamare in ufficio Isabella Osiria vi manderà a uno di noi a me Stefano Fabio Emanuele Edoardo a tutto lo staff di casa che non vede l'ora di mostrarvi questo appartamento in particolare quindi accorrete visto che in molti non sono riusciti nemmeno venire a vedere l'appartamento di Rovetta di settimana scorsa che è stato venduto pochi giorni dopo la diretta quindi se volete un trilocale a 1000 metri di altitudine qui a Bani di Ardesio a 70.000 euro box e arredo compreso come avete visto chiamateci subito oppure chiamate me al 320-033-4332 anche tramite whatsapp e fissate subito un incontro per vedere questo appartamento uno di quelli già nel nostro bucchè di vendita su www.gcase.it nuove sorprese vi aspettano rimanete collegati con noi sui nostri social e sul nostro sito un caro saluto da Stefano buon lunedì oggi è il 5 dicembre non avevo ancora guardato la data quindi buon lunedì 5 dicembre ci aggiorniamo nei prossimi giorni un caro saluto ancora e buona settimana a tutti